Sono Marvola, ci troviamo qui al Teatro Sociale di Como. Sono venuta per seguire corsi, in quanto ho vinto il concorso per il ruolo di Vespina. Tra pochissimo la lezione con il maestro Antoniozzi. A settembre e ottobre inizieremo le prove per la produzione del Così fan tutte, che inaugurerà la nuova stagione del teatro. Sono molto felice e emozionata di poter entrare nel mondo dell'opera e del teatro debuttando con un ruolo muzzartiano.